La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo gravemente indiziato del reato di furto aggravato, nello specifico personale di volante impegnato nel servizio di ordinario controllo del territorio alla playa, zona che ogni weekend si riempie di turisti e bagnanti che gremiscono il litorale lasciando le auto parcheggiate sulla pubblica via nelle vicinanze dei Lidi, transitando sul viale Kennedy all'altezza della spiaggia libera numero 1, hanno notato un uomo che dopo aver infranto il finestrino di un'auto mediante l'uso di un palanchino stava asportando dall'interno una busta. Alla vista dei poliziotti l'uomo ha provato a scappare ma è stato immediatamente bloccato dopo un breve inseguimento. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire nelle tasche del soggetto alcuni oggetti di provenienza furtiva. Gli accertamenti effettuati nell'immediatezza dei fatti hanno permesso di identificare l'autore del tentato furto in un cittadino tunisino irregolare sul territorio nazionale. Acquisita la denuncia del proprietario dell'autovettura, l'uomo è stato tratto in arresto e su disposizione del PM di turno collocato presso le Camere di Sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.